Io appartengo al gruppo di Forza Italia, io ho votato contro nel voto segreto ma era un voto segreto non importa. No, mi scusi, mi scusi, mi scusi signor Presidente. Finita la votazione, dal Banco del Governo la senatrice Vicari ha urlato complimenti a Forza Italia. Allora Presidente, siccome lei è garante della serietà nostra, io penso che ognuno di noi abbia il titolo di fare qualche commento sugli altri gruppi, siamo in democrazia e tutto è accettabile. Chiedo a lei se è accettabile che un rappresentante del Governo faccia un apprezzamento denigratorio nei confronti di un gruppo. E' solo una domanda che le faccio, grazie. Grazie a tutti.